Sì, è esattamente così. Con l'avviso pubblico che presentiamo oggi, che è denominato Servizi Avanzati, il Governo regionale mira ad incentivare le piccole e le medie imprese nell'acquisizione dei servizi di consulenza che vadano a consentire alle imprese di realizzare progetti per l'innovazione di prodotto, per l'innovazione di processo, per implementare i modelli organizzativi e gestionali. Ciò tutto è finalizzato all'innovazione, alla competitività delle imprese e quindi alla crescita anche occupazionale. Miriamo naturalmente attraverso questi incentivi a rafforzare le capacità delle imprese e andare incontro a quelle che sono le loro esigenze legate alla transizione ecologica e alla transizione digitale. Abbiamo messo a disposizione delle nostre piccole medie imprese una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro. Le imprese potranno presentare dei progetti che vadano da un minimo di 15 a un massimo di 200 mila euro e potranno essere sostenute e incentivate con un contributo a fondo perduto pari al 50%. Il 15 di gennaio verrà aperto lo sportello per poter inoltrare e caricare le domande che verrà così il 14 di febbraio e poi il 15 ci sarà il click day. Anche questo bando così come quello precedente impianti e macchinari e così come quello che seguirà relativa all'internazionalizzazione sarà triennale, praticamente fa parte di una pianificazione triennale e quindi verrà pubblicato quest'anno, l'anno prossimo e tra due anni. È previsto anche per questo tipo di bando la possibilità di avere procedure di istruttoria semplificate in maniera tale che le imprese possano rapidamente fare istanza di accesso e ottenere il contributo perché riteniamo che la tempestività nell'andare a derogare i contributi sia importante tanto quanto il fatto che la misura a sostegno ci sia. Una domanda di innovazione che viene proposta oggi non può essere soddisfatta da qui a un anno perché magari poi le esigenze cambiano, invece riuscire in brevissimo tempo ad andare a soddisfare le istanze che le imprese propongono è un obiettivo fondamentale per questo governo regionale. Sì ci aspettiamo una risposta importante perché il 50% è una misura davvero rilevante e importante. Poi riteniamo che grazie alla liquidità che le piccole e medie imprese hanno acquisito in ragione del SEIT e quindi dell'indennizzo della regione Calabria sta erogando alle imprese calabresi che hanno affrontato il maggior costo di energia sul 2223 rispetto al 21-22 hanno in questo momento le nostre imprese quindi una capacità finanziaria che gli consente di andare a far fronte all'altro 50% che loro devono investire naturalmente per acquisire questi servizi.